Siamo alla sassione a nannina, vedete da là ci sono un solo treno, guardate, ora c'è un altro treno, come passa subito, avete visto? Siamo alla sassione a nannina, ora per arrivare, sassione a nannina, pubblicità, sta arrivando la sassione, vedete, la tacca dell'avventura, è quella colorata. Ora c'è per partire, ora arriva, ora cambia birraio, ecco l'annina, mi sicuro che si, come passa subito, anannina, anannina, ci sono due treni a capolinea. Ora c'è per partire, anannina, che si dice niente di bello del giornale? Sì, il semafo è rosso, ora c'è per partire il treno. Ora c'è la voce che dice, non ci riesco a nonannino, ma dà, e dai, e dai, e dai, e dà, e dai, 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 e dai. ora sta per arrivare il treno vedete l'arazzi sta per partire il treno eccolo come passa subito ciao a tutti ecco la nostra metro infatti sta per arrivare per che non sia fuori servizio all'ottanasi dalla linea 0 eccolo vedete che sa per arrivare è un altro treno dall'altra parte 178.0 è tutto fuori da l'arazzi vedete 2 stu 2 stu 3 stu 3 stu 3 stu e e Grazie a tutti.